Quest'anno la festa della liberazione a Torino è stata percorsa da Venature Jazz. La collaborazione tra il Comitato Regionale Resistenza e Costituzione e il Torino Jazz Festival ha dato vita alla tradizionale giornata di festa del 25 aprile. Nel pomeriggio lo swing ha animato il porticato del Museo della Resistenza con la musica degli anni 30 della Big Band Theory. Più tardi la festa si è spostata in Piazza Castello con clarinetti, percussioni e fiati di Trovesi all'Opera con profumo di violetta. Alle 21 l'attesissimo concerto di Daniele Sepe unter Rot Jazz Fraction ha entusiasmato il pubblico con omaggio ad artisti resistenti come Matteo Salvatore, Frank Zappa, Charles Mingus e Victor Ghiara. Durante tutta la giornata è stato proiettato il Jazz della Liberazione videoclip con immagini d'archivio della Liberazione di Torino realizzato in collaborazione con l'Istituto Storico della Resistenza.